La storia inizia con Saverio che si prepara con un grande fratello, Saverio, e Rachele l'aiuta con la musica, l'aiuta a preparare un buon anno, pazzo, è innamorato di quello gente, va bene? Ok, grazie, thank you fratello, va buono, tutti corrono, tutti casino, e poi subito Saverio si sta preparando per grande fratello, e tutti Saverio, tu piace questo, è Giustino Robustino, Giustino Robustino è il compadre di Minitio, scuola insieme al magistrale, ed è convinto che Minitio si vuole entra il principe, è il principe di Roma, è quello di grande fratello, si vuole convincere, il padre che sa, il problema è, il padre, la famiglia lo covo, non vuole che il figlio va a grande fratello, e invece ci vanno tutti i grandi fratelli, e avete capito? Stai a terra a me, ora fate il nome, grande fratello, grande fratello, grande fratello, grande fratello, grande fratello. La media prende fuoco quando il principe dice che dobbiamo dire tutto a Bartolomeo Bartoli di Roma, Bartolomeo Bartoli, ah si? Sì, prende il corpo, e la commedia diventa tutto un'imbalazzo di botana, si è la testa, tu cominci a scrivere qua, la commedia è più ubriato, poi va a manasciarlo e tutti vanno a dire, ti deve poi, si deve decidere, la media, la maia, finisce così, ti piace? Sì, va bene? Va bene? Va bene? No stress! Stop, Sabe Stop! Non si sa, non si sa, non si. Scusate che ci si spenga? Certo, perché cosa ce ne combanta? No, veramente ci sono per combattere? Sì, veramente, ultimamente ci sono per combattere, cosa è proprio? Sì, ma che buono, è sicuramente per un po' di seguito, è 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 un po' di seguito. Sì, ma che buono, è sicuramente per un po' di seguito, è un po' di seguito, è un po' di seguito. Sì, ma che buono, è un po' di seguito, è un po' di seguito, è un po' di seguito. La più lucida e la logica della Roma. Anche con la morale. Sì, c'è una morale secondo me molto più forte di quando lo è degli altri. Dovremmo studiare una situazione più sorprendente, questo fatto di diāvolo bar la televisione. A bella, a qui ci vede, se ci scuse. Adesso ci stanno a consumare. Abbiamo vinto! Non so mai! Vieni! Vieni! Che cosa vuoi? Non ti voglio più! Non c'è, non ti voglio più! Dij�� di! Tu! Vieni! Vi provo al bambino! Che! No, no, no! No, no! No, 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 no! 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 No, 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 no! No, no, no! No, no, no! No, no! No, 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 no! No, no, no!